Ciao, nel video di oggi andiamo a vedere come essere più interessanti con le donne. Io sono Gio Dio Renzo e questo è SeduzioneAttrazione.com Prima di cominciare ti ricordo una cosa importante. Se ti interessa la seduzione ho anche un canale Telegram chiamato Gio Dio Renzo dove condivido informazioni che su questa piattaforma dove mi vedi ora non posso darti. Quindi vieni a trovarmi anche lì, trovi il link in descrizione. Dunque ragazzi, quello che è l'argomento del video di oggi è un qualcosa di piuttosto complesso perché anche se tu in questo momento potresti non rendertene conto quello di essere interessanti in realtà ha un territorio molto pericoloso. E' molto pericoloso perché per un uomo che sta imparando questa roba ed è serio nell'impararla l'equazione sono interessante e quindi divento più interessante e quindi più di successo agli occhi delle donne sembra praticamente un no-brainer, una cosa scontata. Questo almeno per tutti quegli uomini che non stanno semplicemente a lamentarsi pensando che questa roba non si può fare. Ora però relativamente all'essere interessanti dobbiamo partire innanzitutto da due principi. Il primo è dato dal fatto che in realtà non ti serve così tanto quanto tu ti aspetti per essere più interessante di quelli che sono gli altri uomini. E il secondo è dato dal fatto che in realtà molti dei primi autori di questa roba che si erano concentrati per l'appunto sul come essere interessanti agli occhi di una donna non avevano ancora capito quelli che sono gli effetti indesiderati che questo tipo di strategia produce. Ma prima di vederli facciamo qualche esempio di tante strategie a cui si era pensato per risultare più interessanti. letture della mano, vari test di tipo psicologico, tra cui i più famosi per esempio erano il cubo o il campo di fragole, ma al di là di questo ce ne erano veramente svariati, piuttosto che letture a freddo, teorie dei colori per parlare di quello che era il suo potenziale tipo di personalità a seconda del vestito che portava, segni zodiacali, citazioni di personaggi famosi o aforismi per diverse situazioni, storie che mostravano cultura e che quantomeno vendute in maniera un po' diversa da un libro di testo comunque producevano delle conversazioni un po' diverse con le donne rispetto a quelle che avevano con uomini normali. Un esempio di questo potrebbe essere parlare, che ne so, di mitologia greca o romana. E ovviamente questa, ripetiamola, non veniva venduta come una lezioncina a scuola, ma c'erano degli agganci e dei modi per presentarla. Molto tempo fa io praticamente mi ero fatto fare questa collana a forma di piramide in cui praticamente c'erano stampati questi geroglifici che erano il corrispettivo delle iniziali del mio nome. E a queste erano collegate delle storie. E ad essere onesto con te, anche se non ho mai avuto la voglia di sbattermi così tanto, una possibile strada che avrei potuto prendere da lì potrebbe essere stata quella di imparare, ad esempio, i vari geroglifici e disegnarle, per esempio, il suo, della ragazza, di geroglifico relativo al suo nome. E ero persino arrivato a un punto in cui mi ero costruito un mix fra una tenda araba e un letto a baldacchino in camera. E nonostante, se avessi vissuto in una casa di lusso una cosa del genere, potrebbe anche essere sembrato un vezzo, e nonostante in realtà quando le ragazze entravano, comunque rimanevano impressionate, perché praticamente entravi dalla porta, aprivi le tende e ti ritrovavi in questa specie di soggiornino corredato con sedili, tappeto, narghilè, cazzi, mazzi, quindi era un ambiente particolare. Quindi le ragazze, sì, rimanevano impressionate, però ciononostante puzzava come un terribile tentativo di overcompensazione. E non mi fa intendere, non è che non abbia fatto sesso con delle ragazze in quella tenda, semplicemente però, quando ci ripenso oggi, non posso fare nient'altro che dire, ma guarda che coglione! In ogni caso, tenda o non tenda, come vedi, c'erano tantissimi materiali preconfezionati e con un po' di fantasia potevi fare anche per conto tuo. E non mi fa intendere, se lo scopo era essere interessante, tutti quei materiali facevano il loro lavoro. E molto spesso, infatti, quando la ragazza era interessata, magari ti rispondeva al primo messaggio, facevano notare quanto fossi stato interessante, o comunque te lo faceva notare a qualche punto dell'interazione. I benefici, però, purtroppo finivano qui e da qui iniziavano tutta un'enorme serie di svantaggi. E prima di passare agli svantaggi, però, ragazzi, ci tengo anche a precisare una cosa. Io, francamente, non sto dando addosso a autori che hanno proposto cose di questo tipo, anzi, ho il massimo rispetto, nel senso che, a loro tempo, ci sono fatti un gran culo per pensare a queste cose, hanno fatto un gran lavoro di creazione e divulgazione, che per il più ha permesso a moltissimi uomini di venire a conoscenza di queste dinamiche. E, nonostante questi concetti oggi siano datati, e non possiamo più considerarli ideali, rimane il fatto che questo si può dire di qualsiasi cosa, cioè qualsiasi cosa evolve in realtà col tempo. Una cosa che però non mi piace di questi autori sta nel fatto che, in realtà, come dicono gli americani, sono too cool to go to school. Cioè, praticamente, sono rimasti così emozionalmente attaccati ai primi concetti che produssero da non riuscire a rendersi conto che, in realtà, era il caso di modernizzarli. E, in realtà, questo è il problema con molti guru, non solo nella soluzione, ma in qualsiasi campo, perché si innamorano così tanto del metodo che hanno creato, e sono così attaccati emozionalmente al metodo, che non riescono più a vederne le falle. E questo, in parole povere, non li rende partecipi al cambiamento o disposti al cambiamento nel momento in cui esca qualcosa di meglio. E, personalmente, invece, non mi faccio alcun problema a dirti che se domani esce o qualcuno scopre una nuova tecnica o metodologia che è un game changer, cioè cambia completamente i risultati, io cambio completamente dall'indomani quello che insegno, perché mi interessano i risultati e non le religioni. E, di conseguenza, quello che è servito fino ad oggi, benissimo, grazie tante, e ci godiamo, mi godo, ti godete i risultati, ma se domani si scopre qualcosa di meglio, il vecchio lo si butta via. Quindi, qual è il problema nel risultare interessanti con le donne, almeno con questi tipi di materiali? Primo, sì, ok, la ragazza ti dice che sei interessante, ma il tasso di chiusura si abbassa e questo è tutto il fatto che, in realtà, il fatto che ti considera interessante non significa che vuole essere scopata. Secondo, si propongono come panacea tutti i mali e la realtà è che non è così. Infatti, se magari potrebbero funzionare, o funzionano anche bene, con donne particolarmente intelligenti e acculturate, magari con una donna che è più tamarrona, ma che ci vogliamo comunque scopare perché è una grafica, producono il risultato opposto, cioè di alienarla. Terzo, sono fortemente basati sulle personalità degli autori, e di conseguenza molti ragazzi o uomini potrebbero sentirsi strambi a utilizzare materiali di questo tipo. Non solo, essendo che sono incongruenti questi materiali con la personalità di molti uomini, alcuni uomini, soprattutto se non partono da zero, perché quando parti da zero capisci che male che vada fai male tanto quanto prima, ma soprattutto se questi uomini non partono da zero e incorporano sistemi di questo tipo, a volte rischiano di peggiorare in quelli che sono i risultati. Quinto, creano dei mindset molto pericolosi. Quindi, vediamone alcuni. Rimorchiare è una cosa complessissima, e anche se in realtà ovviamente è complessa, non così tanto come nel dover utilizzare materiali come di quelli di cui abbiamo parlato. Devi impressionare, intrattenere, intrippare una donna. Cioè, sin da subito parti con una mentalità per cui lei ha inerentemente più valorete. E devi utilizzare questi materiali per modello, ma in realtà, anche se per uno studente è difficile rendersene conto, non è sempre vero che la donna è meglio di lui. E poi portano l'uomo a investire praticamente da solo nel lavoro e non far fare nulla o quasi a lei. Ora, come vedi, tutte queste cose tendono a tirare la donna verso di noi, lasciando poco spazio allo spingerla via. E non mi fra intendere, in un mondo in cui comunque a stragrande maggioranza gli uomini cercano di tirare la donna a sé, almeno un metodo che sia ragionato può produrre risultati, anche se non sono ideali. Però l'ideale, scusa il gioco di parole, sarebbe avere risultati ottimali. Quindi, come si fa ad essere maggiormente interessanti e non andare incontro a tutti questi problemi? Per prima cosa, tu hai renderti conto che in realtà la tua concorrenza non è così agguerrita come tu pensi. E questo comporta che in realtà tu potresti aver notato che nel mondo reale ci sono un sacco di uomini che hanno skills verbali che non sono così tanto meglio delle tue. Questo dipende da studente a studente, perché ci sono dei studenti che sono roba da mettersi le maie nei capelli. Ma se tu sei uno di quelli un po' più normali, bravini, chiamiamoli quello che è lo spectrum dei studenti di soluzione, potresti aver notato che ci sono veramente alcuni uomini che hanno dei skills verbali, che sono anche magari peggiori e tu e mo' ottengono risultati migliori dei tuoi. E questo dovrebbe rendere evidente che per molti uomini in realtà il problema o i problemi più urgenti da andare ad aggiustare non sono certamente relativi all'essere interessante. In secondo luogo, cos'è interessante per una donna? Riviste femminile? Romanzi? Shopping? Games of Thrones? Che non so come si dice in italiano, ma insomma è la serie tv? Sex and the City? Sì, sono tutti argomenti molto interessanti per una donna, ma se li usi tu diventerai l'amico gay. Quindi quello che diventa realmente indispensabile è capire cosa una donna trova interessante in un uomo. E quindi questo capiamoci non significa cosa lei trova interessante a livello conversazionale, ma significa cosa trova interessante al fine di accoppiarsi con quest'uomo. Perché, diciamoci la verità, a fine giornata il nostro scopo è questo. Quindi cosa interessa alle donne? Beh, un uomo che è meglio di loro, ha più valore di loro, e di conseguenza, nei limiti del realistico, il tuo compito è diventare quel tipo di uomo. E spiego tutti quelli che sono i pilastri del valore uomo su cui tu puoi e devi lavorare in quello che è il mio corso Insider Mind. Oltre a questo, le donne sono interessate ad uomini che a livello evoluzionistico hanno dei tratti che li rendono desiderabili come potenziali partner e partner sessuali. Questi tratti possono essere trasmessi attraverso quelli che vengono definiti in gergo tecnico, triggers di attrazione, e di cui ti parlo nel mio corso Tecniche di soluzioni avanzate. Ora, quindi, ti potresti chiedere, la conversazione non c'entra assolutamente nulla con l'essere interessanti? Beh, a dire il vero no. La conversazione assolutamente ti può rendere più interessante degli altri uomini, perché questi sono molto scarsi, statisticamente parlando a livello conversazionale, ma quello che ti sto dicendo è che la conversazione da sola non va a fare la magia. E questo è dovuto al fatto che la conversazione può far sì assolutamente che lei senta, sperimenti di stare avendo una conversazione interessante con te, ma questo non significa che vuole il tuo pisello dentro di lei, sono due cose diverse. Quindi sicuramente tu devi imparare a conversare nella maniera corretta con lei. E ti spiego come farlo nel mio corso Conversation Master, ma questa è una primissima strategia a breve termine. Nella strategia a lungo termine invece noi dobbiamo andare a migliorare tutti quelli che sono gli altri tratti di cui abbiamo parlato poco fa. E vediamo ora qualche altro piccolo bonus aggiunto. Il primo consiste nel fatto che se tu vuoi diventare veramente efficace devi conoscere un po' di tutto. Non devi diventare un esperto di ogni argomento per questo impossibile, ma devi essere quantomeno capace di parlare e di intrattenere una conversazione sul più vasto numero di argomenti possibili. E questo in realtà si fa in maniera molto molto semplice. Infatti tu dovresti fare tantissime interazioni con donne e durante queste interazioni usciranno anche tantissimi argomenti di conversazione. E ogni volta che esce un argomento di conversazione sul quale tu non sai nulla, tu vuoi prendere una nota sul tuo cellulare e andare a studiartelo dopo a caso. In più abbiamo viaggi, attività che in pochi fanno, fare nuove esperienze che normalmente non faresti, sviluppare per esempio un lato artistico e infine avere delle domande di qualificazione verso i lei che gli altri uomini non fanno. Ora ho girato anche degli altri video gratuiti su questo argomento, quindi se sei interessato ti consiglio di andarti a guardare. Stop! Non scappare subito! Primo, ricordati di iscriverti al canale. secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare ad ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare ad usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.